Tell me when will you be mine Tell me quando, quando, quando La felicità come artista italiano è ad aver avuto l'opportunità di lavorare con grandi maestri del cinema mondiale come George Lucas, Francis Ford Coppola, Bobby Moresco in Lamborghini e l'ultimo film con il quale ho girato questa estate con Michelle Dunner in uscita con Miranda's Victim con grandi star internazionali tra cui Sutherland, Andy Garcia, Locke Wilson eccetera ho avuto la grande possibilità di fare questa drama comedy che si chiama The Italians dove interpreto la parte di Father Joe una commedia brillante, una commedia molto soft che parla di italo-americani dove appunto ci sono tanti dramma ma anche tante situazioni comiche e leggere per quanto riguarda il futuro ci incontreremo alla prossima edizione di Sorrento Film & Food Festival che esiterà dal 1 al 6 gennaio al Cinema Armida a Sorrento Felicità!